tradiziano beach sabato 9 ottobre noi non mogliamo quei faggi qualcosa qualcosa compare sempre una bella riva è faticosa faticosa ma oggi senza mappa siamo andati così a caso ho già scoperto perché ovviamente paratasi di edulis l'orefungino il super inebriano e adesso il super papavero il regno dei papaveri qualcosa si trova mattina fredda ciao a tutti